Buongiorno a tutti, anzi dovrei dire buonasera perché comunque è sera. Come potete vedere sono tornata alla mia amatissima postazione in Irlanda, finalmente la smetterò di farvi venire il mal di mare in quanto qui ho il supporto per reggere la telecamera e quindi ho le mani libere. Allora, oggi è domenica quindi abbiamo la nostra consueta lettura della domenica per vedere le energie della settimana che inizia domani. Oggi abbiamo tre mari molto diversi. Abbiamo il mare della Pila 1 che sono appunto i Mermettero di Dame Darcy, sono questi che vedete qua la scatola. Poi abbiamo la Pila 2 che sono invece i Mermettero sempre ma di Lisa Robertson e poi gruppo 3 abbiamo, Pila 3, abbiamo i Reriktero che sono molto particolari ma avendo il mare anche loro, un mare un po' più cosmico, però avendo il mare anche loro sul back, quindi sul retro, ho voluto fare questa presentazione marina. Ovviamente io vi chiedo di scegliere assolutamente intuitivamente, se vi sentite attratti da uno più pile è normale, non vi preoccupate, potete tranquillamente vederne uno, due o tutte e tre. Io vado a spostare Pila 3 e Pila 2 e lavoriamo con la Pila 1. Allora, Pila 1, vediamo le energie di lunedì e martedì. Abbiamo 6 of Wands, ok, 6 di bastoni. E niente, questa carta è la vittoria, il trionfo, quindi diciamo che se avete delle scusate non ve l'ho fatta vedere bene, se avete delle questioni in ballo che domani dovranno avere, domani o martedì dovranno avere un esito, qui l'esito pare sia molto molto buono. Se siete degli studenti che magari dovete dare degli esami o dovete affrontare prove lavorative o anche solo semplicemente avete voglia di passare due giorni a fare i pasciò, questo potrebbe essere il momento giusto. Vediamo le energie di mercoledì e giovedì. 10 of Pentacles, ok, 10 di pentacoli. Ebbè, niente, qua ancora una carta che richiama alla stabilità, all'armonia anche familiare se vogliamo. Quindi che dire, per ora tutte energie stra-positive. Vediamo le energie di venerdì, sabato e domenica. Ok, 5 of Swords, 5 di spade. Qui c'è un po', vedete c'è il fulmine, c'è il sereno. Normalmente il 5 di spade nei tarocchi universali è visto un po' più come un abbandono, un tradimento, insomma una carta abbastanza, non dico forte, però insomma ci sono delle energie non propriamente positive. Anche qui, nonostante io la veda un filino più attenuata, io qui in questa carta ci vedo più l'allontanamento di una persona. Quindi non lo so, potreste magari avere qualche scaramuccia con qualche amico, con qualche parente, questo non lo so. Certo è che io però vi vedo belli fieri, belli proud, non so come dire. Venite comunque da un'ottima settimana, quindi non lo so. Quello che mi arriva, non lo so, io vi dico poi sempre tutto quello che arriva a me, è che quello che vedo in questa carta è che più che litigate con qualcuno che, io vedo proprio un qualcuno che magari è invidioso o geloso della vostra situazione e che quindi si allontana. Perché voi in realtà qua non siete, questi siete voi, e non vi vedo né dispiaciuti né niente, siete belli a torso nudo, quindi non lo so, non mi arriva tanto appunto il litigio in sé, nel senso che secondo me voi sarete tranquilli, sarà qualcuno che si allontanerà. Non lo so, gruppo 1, a questo punto fatemi sapere, perché questo io vi dico quello che arriva a me, però poi non è detto, essendo una lettura generica, non è detto che sia così per tutti. Il 5 di spade, ripeto, comunque potrebbe rappresentare la vostra solitudine nei confronti di determinate persone, ecco, questo per dirla in maniera generica. Vediamo la carta oracolo che ho estratto, abbiamo The Magic Seeds, ok, i semi magici, bellissimo questo sole, questo girasole che sorride, vediamo se dietro ci dice qualcosa di interessante. Noi siamo i semi che crescono, che fanno crescere, che crescono dentro le sorprese magiche. Ok, beh qua si parla di magia, che dire, secondo me, visto che questi sono semi, questa settimana magari potreste seminare un qualcosa che poi sboccerà più avanti, che sboccerà magari nelle settimane a venire e questo forse potrebbe dare fastidio a qualcuno. Ce lo vedo perché questa carta viene ancora dopo questa, quindi potrebbe essere anche questo tipo di situazione, che avete delle idee, ricordiamoci che le spade si riferiscono sempre al livello mentale, avrete delle idee che magari potrebbero infastidire qualcuno, che magari è un po' invidiosetto, chissà, questo me lo saprete dire voi. Vediamo di tirare su qualche chance. Allora, gruppo 1, come andrà la settimana per il gruppo 1? energie di questa settimana per il gruppo 1, energie di questa settimana per il gruppo 1. Ok. Oh, mi è rimasta attaccata, ok, mi è rimasta attaccata la streghetta. La streghetta mi piace perché ancora si riconnette un po' con i semi magici, con qualcosa di magico. Avete proprio qualche intuizione molto buona, secondo me. Tra l'altro abbiamo l'albero e con i semi magici, ricordiamoci che i charms sono sempre riferiti al futuro e quindi i semi magici potrebbero poi dare come frutto un albero molto interessante, molto importante, un albero che vi può dare anche gioia e stabilità. Molto bene. Abbiamo un richiamo, un richiamo che può essere un richiamo spirituale, un richiamo alla vita, un richiamo anche della vittoria, magari la gente che vi acclama, chissà. C'è la moonstone e qui ancora si parla di magia, ancora si parla di intuizione. Secondo me avrete delle intuizioni eccezionali, nel senso che sono intuizioni che non avete normalmente, ecco, quindi qualcuno di voi potrebbe avere veramente qualche idea geniale o qualche intuito particolare. Abbiamo una lettera E, che questo lo sapete voi cosa vuol dire, abbiamo anche però il 6, il 6 si rifà agli amanti, quindi bellissimo. Tra l'altro qui abbiamo il 10 di pentacoli con la coppia, quindi che dire, sotto forma di amore, potrebbe ovviamente riferirsi anche all'amore universale, l'amore intorno a voi, anche questo 10 di pentacoli è anche una connessione molto particolare con l'environment intorno a voi, quindi molto bello. Siete comunque molto amati, questo è molto bello. Niente, va bene, gruppo 1, fatemi sapere cosa ne pensate, io ovviamente vi auguro una settimana meravigliosa e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ok, gruppo 2, se avete scelto invece i Mermed Tero di Lisa Robertson, allora queste sono le energie per quanto riguarda la vostra settimana, vediamo energie di lunedì e martedì, quindi domani e dopo domani. 3 di pentacoli, beh 3 di pentacoli molto bene, ci rifacciamo al lavoro in team, quindi una collaborazione, una cooperazione, può essere anche una collaborazione che sta per nascere o una collaborazione che avete già con i vostri colleghi, comunque questa carta ci parla di armonia, armonia sul lavoro, armonia anche per quanto riguarda le situazioni intorno a voi, quindi non devono essere per forza situazioni lavorative, ma potrebbe essere anche il contatto con la natura. Magari, non lo so, molti di voi saranno anche andando in vacanza, quindi ci potrebbe essere anche questa gioia, ecco, di godere del panorama intorno a voi. Poi abbiamo energie di mercoledì e giovedì, re di pentacoli, niente, proseguiamo con i pentacoli, qua c'è proprio un'ascesa, c'è anche se vogliamo un assestamento, forse alcuni di voi stanno cercando anche di assestarsi in questi giorni per quanto riguarda proprio il lavoro, la casa, tutta una serie di questioni che riguardano proprio il vostro benessere, il vostro benestare. Il re di pentacoli è comunque una figura senza dubbio solida, potrebbe essere anche una figura maschile, ma se la relazioniamo al tre di pentacoli di prima io ci vedo una crescita, quindi un migliorare, questo mi fa molto piacere. Vediamo le energie di venerdì, sabato e domenica. Otto di pentacoli, va bene, tutti i pentacoli, quindi tutta connessione con la terra a questo punto, con la terra, con madre natura, con quello che vi offre, guardate quanto verde c'è in queste tre carte. L'otto di pentacoli però si rifà ancora, specie in questo mazzo, proprio al lavoro in team e quindi qua mi fa pensare che potreste brillare sul luogo di lavoro, probabilmente alcuni di voi potrebbero ricevere delle promozioni. C'è proprio questa energia, una bellissima energia dal punto di vista lavorativo, ma ripeto per chi non lavora, perché ci potrebbe essere anche chi è in pensione o in vacanza, c'è una bellissima energia proprio di contatto con la natura, contatto con la foresta, contatto con quello che è intorno a voi, la luce, il verde, insomma molto molto bello. C'è un'armonia veramente magica, che dire, molto bello. Gruppo 2, fatemi sapere se è effettivamente così perché tre su tre pentacoli, insomma mi fa abbastanza specie. Vediamo la carta oracolo che ho scelto per voi, cioè che in realtà ho estratto, vediamo che cos'è. Magic Seed, ok, mi fa specie perché l'altro gruppo aveva Magic Seed, che sono i semi magici, voi invece avete lo stallone magico. In questo caso ovviamente il primo pensiero è Pegaso, quindi siete proprio, non so come dire, avete proprio preso, avete spiccato il volo, siete in uno stato di, sarete perché si riferisce a questa settimana, però sarete proprio in uno stato di gioia, felicità, proprio oltre, che va oltre, oltre le nuvole, oltre l'infinito, oltre l'orizzonte. Io ci vedo anche una figura amica, d'altronde qua sono uscite un sacco di figure amiche, tra l'altro anche il re di pentacoli potrebbe essere una figura amica intorno a voi e Pegaso è colui che vi porta in groppa, quindi ci vedo sicuramente una figura amica. C'è anche il riferimento del gufo, quindi del saggio, quindi potreste proprio essere voi a spiccare il volo con le vostre idee, col vostro operato. Questo è bellissimo, c'è veramente un'energia magica proprio, proprio bella, 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 bella. Gruppo 2, meraviglioso. Va bene, tiriamo su due charms per voi, vediamo come andrà questa settimana secondo i charms, allora gruppo 2, energie di questa settimana per il gruppo 2, energie di questa settimana per il gruppo 2, energie di questa settimana per il gruppo 2, ok? Allora è uscito un po' di roba, sì è uscito il lavoro, sono usciti due utensili lavorativi, quindi ancora il lavoro, è uscito il movimento, quindi sì che siate su un cavallo, che siate in groppa una macchina, vi state muovendo, state andando avanti il carro, l'azione, la voglia di fare, mi esce tanto l'ambito lavorativo, quindi che dire, potrebbe essere anche così. Sono uscite le persone che vi aiutano, è uscito un amico fedele, è uscita la serenità, l'armonia, quindi anche qua piatto ricco micifico, è uscita l'abbondanza, d'altronde sono tutti pentacoli, tutte carte verdi, è uscita la piglia verde ragazzi, che cosa vi devo dire? Sono uscite tre lettere, la P, la O e la S. POS, POS di posso fare, il POS per pagare, quindi magari vi arrivano dei soldi, o farete degli investimenti voi molto buoni, comunque tutto rimanda un po' all'abbondanza ai soldi, al lavoro, quindi che dire, anche i charms hanno assolutamente confermato la stesa. Gruppo 2, io vi mando un abbraccio enorme, vi auguro una settimana bellissima, fatemi sapere, noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Ok, gruppo 3, se avete scelto i Roriktero, allora questa è la vostra stesa, vediamo le energie della settimana partendo dalle energie di domani e dopodomani, quindi lunedì e martedì. Beneficio, ok, 9 di denari, tra l'altro la stesa prima era tutti i denari, va bene, partiamo anche qua con un 9 di denari. Beneficio, 9 di denari, questa carta mi fa proprio pensare al raccogliere i frutti, non siete soli, quindi ci sarà proprio una soddisfazione nel vedere quello che avete fatto prima, ok? Quindi raccogliere i frutti delle cose che avete appena fatto. Probabilmente è una cosa che avete iniziato molto tempo fa, perché qua c'è un po' questo simbolo che mi ricorda un po' la lumaca, ok? Potrebbe essere ovviamente anche una conchiglia, quindi un'emozione che vivrete tra lunedì e martedì, però c'è proprio la soddisfazione, il beneficio dell'ottenere, cioè gain, che in inglese significa proprio ottenere qualcosa, quindi molto bene, potrebbe essere che tra lunedì e martedì abbiate anche una gratifica, un qualcosa che sicuramente vi farà piacere e che probabilmente proviene da un qualcosa che avete iniziato precedentemente. Vediamo le energie di mercoledì e giovedì, abbiamo deception, ok? Disappointment, quindi qui abbiamo un po' di disappunto, il 5 di coppe è più, normalmente nei tarocchi universali si riferisce un po' più alla malinconia, un po' più alla chiusura, invece qua per quello che riguarda questo mazzo di tarocchi potrebbe essere che proprio nel vostro percorso, qua c'è proprio un blocco di marmo, ci potrebbe essere un qualcosa che crea disappunto in voi, quindi un qualcosa che magari non propriamente va come avreste voluto, non significa che sia per forza una roba enorme, però ci sarà un po' più di, a livello sentimentale, mentre qui lunedì e martedì c'è proprio un'emozione forte, mercoledì e giovedì c'è un po' un calo emozionale che ci potrebbe anche stare, perché dopo le forti emozioni c'è sempre un attimo di calo. Vediamo energie di venerdì, sabato e domenica, forza abbiamo ancora un 9, non so se questo a questo punto può significare qualcosa per voi, abbiamo due 9, ma qui c'è invece ancora l'esplosione vostra di proprio la voglia di spaccare tutto, nel senso che forse potrà anche succedere che questa cosa in realtà poi vi creerà questa questa specie di scoppio, ok, che però è molto positivo, innanzitutto perché non bisogna mai somatizzare, bisogna buttare fuori, perché quello che somatizziamo ci fa male, in secondo luogo perché qua c'è proprio un'energia bellissima, c'è proprio un uscire dal guscio, un andarsi a conquistare le cose che volete, anche un cambio mentale, scusate è un 9 di bastoni, non ve l'ho detto, però c'è proprio un cambio deciso, più che mentale perché non sono spade, ma proprio un cambio decisionale, un cambio creativo, un cambio, ah sì, succede questa cosa, va bene, io invece di prendere questa via esplodo e prendo altre vie, ok, quindi questo è quello che mi arriva, però è una settimana molto stimolante secondo me, molto stimolante, un po' dai successi ottenuti, qui vorreste fare qualcos'altro e forse non vi è dato modo, ma troverete assolutamente il modo per fare di testa vostra e assecondare la vostra creatività, quindi bellissimo. Vediamo la carta oracolo che è uscita per voi, abbiamo l'imperatore, l'imperatore è un altro che non è che se le fa dire tanto, è uno che fa quello che decide di fare, energia maschile, abbiamo proprio lo yang, il pugno duro, però l'imperatore è anche una figura giusta, è una figura che ha raggiunto il suo stadio proprio perché è riuscito nelle sue imprese, quindi molto bene, abbiamo la saggezza del libro, abbiamo la stabilità, insomma abbiamo tutta la celebrazione intorno, quindi bello, 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 c'è anche il mappamondo, c'è proprio tutta una serie di simboli che rimandano a tante cose belle, il viaggio, la saggezza, lo studio, però anche appunto la stabilità, la celebrazione, quindi bello. Sono la persona più potente del mondo, cioè niente di meno che, potrebbe anche essere, lo dico perché essendo una stesa generica può essere di tutto, ma potrebbe anche essere una figura che vi aiuta, una figura molto importante che magari vi dà una mano proprio a raggiungere i vostri scopi. Potreste anche ovviamente essere voi che con tutta la forza che riuscite a tirare fuori, siete proprio autori del vostro destino qua, vi state proprio facendo la vostra fortuna, quindi questo è molto bello, una stesa fortissima proprio, mi arriva questa energia bella forte, bella bella, però molto, proprio forte, c'è tutte queste linee, tutte queste, un'energia proprio prorompente, ecco, prorompente. Vediamo i vostri charms, allora, gruppo 3, cosa succederà questa settimana per il gruppo 3, cosa succederà questa settimana per il gruppo 3, energie di questa settimana per il gruppo 3. Allora, sì, anche qua è uscito il lavoro, sono usciti due utensili di lavoro, è uscito anche qua il fatto di andare avanti, il carro, l'energia, la voglia di fare. Allora, è uscito il numero 8. Allora, non so perché, mi viene 8 in quanto 4 più 4, quindi proprio emblema della stabilità, emblema della forza in realtà che è uscito qua, ma l'8 è proprio la forza, quindi va bene, ok, ce l'avete, ce l'avete dalla vostra. Tra l'altro è uscito anche un 4, infatti quando ho visto 8, ho visto 4 più 4, non so perché, e il 4 ragazzi è ancora l'imperatore, quindi niente, qua c'è proprio questa energia pazzesca. Tra l'altro è uscita anche l'armonia, è uscita l'armonia in casa, anche la voglia forse di riposarsi. Ricordiamoci che charms vengono dopo le carte e quindi forse dopo tutta questa forza, dopo tutta questa voglia di andarsi a prendere quello che vi è dovuto secondo voi, ci sarà poi anche la voglia di riposare, se vogliamo. È uscita una Y ed è uscita una Q. Lettere inusuali, mi direte voi se hanno un significato per voi, ma proprio perché inusuali potrebbero rappresentare un qualcosa che magari non avete mai raggiunto prima e che vi state andando a prendere, chissà. Però sì, questo 4 e questo 8 ragazzi parlano proprio anche di stabilità, sono numeri stabili, non sono numeri instabili, quindi qui proprio state costruendo qualcosa di importante. Caspita che settimanina, gruppo 3! Va bene, io spero di avervi dato qualcosa, spero di esservi stata utile, fatemi sapere con un commento, io ovviamente vi auguro la migliore settimana del mondo e niente, vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!